La Moschea Omar di San Salvario a Torino ha ospitato il 22 aprile un momento di dialogo tra istituzioni e comunità, con la consegna della Costituzione italiana tradotta in arabo. L'appuntamento voluto dal Consiglio regionale Comitato Resistenza e Costituzione, Associazione Culturale Islamica San Salvario e Ampi, sezione Nicola Grosa, ha visto la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio regionale, dell'Assessore all'Integrazione del Comune di Torino, del Presidente nazionale Ampi e del Presidente dell'Associazione Islamica.